Attivare una serie di interventi operativi insieme all'amministrazione comunale per sensibilizzare le istituzioni preposte a dare risposte incisive al territorio. E' una delle proposte venute fuori dall'incontro voluto da Confcommercio Ragusa e che si è tenuto ieri sera nella sede dell'ASCOM di Pozzallo, una delle città iblee maggiormente interessate dalla grave emergenza criminale dei furti con Spaccata. Probabilmente saranno organizzate anche manifestazioni per le vie di Pozzallo, ma i commercianti vorrebbero pure adoperarsi per finanziare l'intervento di una ronda privata che possa vigilare nelle ore notturne, affiancando le forze dell'ordine, delle quali è stata chiesta in ogni caso una maggiore presenza. I commercianti hanno così dimostrato di non volere e non potere aspettare solo le risposte ufficiali e istituzionali garantite dalla Prefettura nel corso dell'incontro di lunedì mattina. Del resto le attività commerciali prese di mira sono tante, troppe e dopo l'ultimo grave episodio ai danni di una gioielleria di corso Vittorio Veneto non si riesce neanche più a dormire serenamente. Il vertice di ieri sera ha visto la presenza dei componenti del direttivo dell'Associazione di Categoria, del sindaco Roberto Ammatuna, del presidente provinciale di Confcommercio Ragusa Gianluca Manenti, del presidente provinciale Feder Preziosi Ragusa Enzo Buscemi e del presidente della sezione Ascom Giuseppe Cassisi. Solleciteremo risposte, se necessario, sottolinea Manenti anche al Ministero. Chiediamo di essere sostenuti e appoggiati con fatti concreti quanto accaduto e di una gravità inaudita per il futuro dei nostri commercianti che naturalmente hanno tutti timore di essere le prossime vittime.